La gestione del numero di pubblico all'interno dei nostri spazi è di fondamentale importanza per garantire un adeguato distanziamento e contrastare la diffusione del virus. Oggi accoglienza e sicurezza si affidano alla tecnologia. PhysiCount è il contapersone elettronico compatto e facile da installare, anche senza l'intervento di un tecnico. Il suo kit minimale, composto da un display e da una telecamera, controlla automaticamente e in maniera affidabile il flusso di pubblico in ingresso e in uscita in ogni tipo di ambiente e situazione. Piccole attività, centri commerciali, mezzi di trasporto, poliferistici e tutti gli ambienti di interesse pubblico. PhysiCount si adatta ad ogni esigenza, offrendo anche la possibilità di gestire i vostri sistemi di apertura automatizzati. PhysiCount. Tutta la sicurezza che conta. Per maggiori informazioni, rivolgersi a PhysiTron Firenze.